buongiorno al popolo di youtube si è stata una bellissima giocante del 10 all'8 serale quindi una spesa minima una resa massima questo due quartini che votarono nel gioco dell'8 e del 10 all'8 serale due quartine ovviamente le due quartine c'è anche il 4 che è venuto fuori e questo è un doppio 3 nell'ex il nome che vi ho regalato diretto il mondo fuori alla grande con quest'altra nuova mia metodologia degli anni 90 inedita amici mini inedita ci sarà qualche altra cosa di bello per tutti quanti voi tutti i vari ringraziamenti perché il 90 il sottoscritto l'ha dato colpo ma a colpo ma in posizione quindi 61 volte da posto e non 10,6 insomma ecco qua andiamo avanti poi c'era un solo ambo e che avevo che la cosa veramente spettacolare amici ma spettacolare il 44 38 sulla razionale ma un solo ambe giustamente pensate voi ma questo unico ambo è venuto fuori a quinto colpo diciamo un solo ambo su una sola cosa qualcuno leone ma sa io io avevo tirato fuori dal cilindro e ripeto andando a ripendere metodi veramente di tanto tanto tempo fa quindi io preparò un'altra super previsione per ovviamente domani sabato 10 settembre andiamo a rivedere eccoli qua un attimo solo mi raccomando occhio al ambo che spacca e occhio al leonotto non è fatemi già preparò un'altra super previsione un altro super estratto in due colpi da lì uno è tutto ciao ciao ciao